Ciao a tutti, appena finita Juventus-Cagliari, la Juve ha vinto 2-0, una partita decisamente controllata, la Juve ha giocato particolarmente bene, no, non ha giocato particolarmente bene, ha giocato per ottenere i due punti. Ricordiamo che poi comunque il Cagliari è il diciannovesimo con 11 punti e con una vittoria a 8 pareggi, quindi fondamentalmente si andava a affrontare una squadra che non è nel top del campionato. Quello che contava era tre punti, fondamentalmente vincere senza faticare, la fatica c'è stata, il Cagliari ha rischiato più di una volta di segnare ben due volte, una volta l'attaccante del Cagliari ci ha graziato, aveva buttato la palla fuori nonostante fosse libero davanti alla porta e dall'altra parte Giovedro, con un colpo di testa perfetto è stato sventato da una manata di Cesni che ha fatto una parata molto importante perché altrimenti sarebbe riaperta la partita e non so come sarebbe finita oggettivamente, ma ovviamente saremmo arrivati a un pareggio. La Juve ha avuto un po' di fortuna, quindi a volte ci vuole, su questo è una cosa positiva e un'altra fortuna è che l'Atlanta oggi ha pareggiato con il Genoa, quindi abbiamo recuperato due punti sull'Atlanta, anche facendo questo discorso a volte rischioso perché oggi ne recuperiamo due, magari la prossima giornata ne prendiamo tema, comunque fa lo stesso. Per ora accontentiamoci dei due punti guadagnanti sull'Atlanta, sperando di acquistarne qualche d'uno anche da Inter, che vabbè che l'Inter è troppo avanti, ma dal Napoli e dal Milan, insomma, e poi magari tenere dietro la Roma che non farebbe male, che deve ancora giocare assieme alla Fiorentina. E cosa dire, buona partita della difesa, anche se per due volte ha fatto due svarioni importanti, con il rischio di pareggiare la partita perché a un certo punto sia Bonucci che De Ligt si sono lasciati andare via gli attaccanti senza grossi problemi, insomma, gli hanno lasciato degli spazi importanti. Gol di Kean, che praticamente ha deviato un tiro deviato di Bernardeschi, buttandolo in porta, rendendolo imparabile per il portiere, quello che è stato il primo gol nel primo tempo. Secondo gol di Bernardeschi, che era da un po' che stava cercando il gol personale, ci ha provato in diverse volte, ed è riuscito con un bel sinistro a tagliare sull'angolo lontano, e il portiere non ci è arrivato, poi probabilmente colpa del portiere perché non era un tiro particolarmente difficile, però, insomma, bene così, bisogna a volte anche provarci per buttarla dentro. Bernardeschi ha fatto una partita discreta, anche se a volte esagera quello che è il proseguire l'azione, a volte si affida troppo alle sue qualità che non sono proprio così affidabili a volte, però, discretamente, corre, cerca di puntare l'uomo, cerca di inventare qualcosa, cosa che molti altri invece non fanno, purtroppo. Morata, presente o non presente, con qualche differenza, Kean ha fatto il gol, quindi ha riempito l'area nel momento giusto e quindi gli abbia permesso di segnare un gol, che è decisamente importante per il proseguio perché è solo 1-0 e la Juve ha avuto un po' più di serenità rispetto allo 0-0 in cui erano già in difficoltà e il Cagliari era molto attento. Nel momento in cui la Juve è andata in vantaggio, il Cagliari ha dovuto cercare di recuperare e quindi ha permesso spazi maggiori di manovra la Juve. Tutto sommato, la partita con Arthur, Bentancur e Rabiot non mi è dispiaciuta, anche se quando entrano McKennie e Locatelli sono due centrocampisti che fanno decisamente la differenza rispetto a un Bentancur, Rabiot e un Arthur che fanno fatica a giocare la palla e a inventare situazioni pericolose. Per il resto, poco da dire, insomma, tre punti portati a casa, che era la cosa più importante, sempre con la paura del pareggio, della sconfitta perché con questa Juve non si sa mai cosa possa succedere, però per questa volta siamo soddisfatti, quindi credo che andiamo a fare le vacanze di Natale abbastanza tranquilli. Però vi saluto, vi do le buone feste, eventualmente non ci sentissimo più. Ciao a tutti!